Buon pomeriggio, ben trovati. L'ordine del giorno reca nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione degli investimenti funzionali all'esigenza del comparto difesa, l'audizione dell'amministratore delegato di RVM Italia, SPA Ingegner Fabio Sgarzi. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e nonché sulla web tv della Camera dei Deputati. Saluto e do il benvenuto all'ingegner Sgarzi, che ringrazio per la partecipazione ai lavori della Commissione, ai colleghi presenti e ai colleghi che parteciperanno alla seduta secondo le modalità stabilite dall'aggiunta per il regolamento del 4 novembre 2020, ai quali rivolgo l'invito a tenere spenti i microfoni per consentire una corretta fruizione dell'audio. Ricordo che dopo l'intervento del nostro ospite darò la parola ai colleghi che intendano porre domande o svolgere osservazioni e successivamente il nostro ospite potrà rispondere alle domande poste. A tal proposito chiedo ai colleghi di far pervenire fin da adesso la propria richiesta di iscrizione a parlare. Do quindi la parola all'ingegner Fabio Sgarzi. Prego, prego ingegner. Buon pomeriggio a tutti, grazie Presidente Rizzo e membri della Commissione per questa opportunità che ci ha concessa di contribuire a questa attività di indagine conoscitiva della Camera dei Deputati presentando a voi l'azienda che dirigo da oltre dieci anni. Negli ultimi anni molto è stato detto dall'RVM Italia, non sempre in modo corretto, ma sono qui per spiegarvi chi è e cosa fa l'RVM Italia e vorrei farlo facendovi vedere un breve video dell'azienda. Grazie a tutti. 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 R-RVM Italia fa parte del gruppo tedesco Rheinmetall AG, che è un gruppo molto diversificato con una forte presenza internazionale con una forte presenza internazionale nei 5 continenti. Il gruppo ha raggiunto nel 2020 un fatturato complessivo di quasi 5,1 miliardi di euro, di cui 60% pari a 3,7 miliardi nel settore della difesa e il resto nel settore dell'automotive. le capacità tecnologico e la produttivo del gruppo è un'automotive è un'automotive. che opera dagli stabilimenti di Ghedi e di Domuznovas. In totale siamo oltre 1.000 dipendenti solo in Italia. L'RVM Italia nasce nel 2010 a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda della difesa dalla Sia Esplosivi, una storica azienda italiana che ha operato fin dagli anni 30 nel settore delle munizioni e delle esplosive militari e civili. Nei quasi 11 anni di vita, grazie al costante impegno finanziario del gruppo e al successo del mercato internazionale, l'azienda ha visto crescere il proprio fatturato da 21 milioni di euro nel 2011 fino a oltre 140 del 2020. La strategia del gruppo è stata di sostenere la crescita in Italia rinvestendo gli utili in nuove tecnologie e impianti. Gli investimenti a oggi accumulano oltre 70 milioni di euro in meno di 10 anni. Nel 2011 in RVM eravamo 120 persone, oggi siamo 340. di cui il 60% presso lo stabilimento di Domus Novas. La nostra età media è di circa 40 anni, un'età molto bassa considerando il settore. Non è senza un punto di orgoglio che sottolineo quanto sia eccezionale il risultato raggiunto dall'azienda in 10 anni. In un periodo così breve abbiamo moltiplicato per 7 il fatturato e per 3 i dipendenti. vi do adesso un sguardo un pochino più dettagliato delle nostre capacità tecnologiche e degli impianti di cui l'azienda dispone che in parte avete già visto nel video di qualche minuto fa. A Gedi è importante dire che uno staff di 25 ingegneri e tecnici è attivo nella progettazione meccanica, elettronica, software, sensoristica, firmware, anche di livello classificato fino al livello di segretonato. L'unità produttiva di Gedi è tradizionale, si avvale comunque di macchinari moderni che hanno meno di 3 anni e di una linea di asperi componenti meccanici dei nostri sistemi e si avvale di una linea di assemblaggio di alta qualità e molto specializzata per i nostri sistemi, in particolare per la difesa subacquea e i loro accessori. Lo stabilimento del Musnovas è unico nel suo genere invece. Un centinaio di fabbricati ospitano le diverse linee di produzione, i depositi, gli uffici e un campo prove dedicato al test di materiali esplodenti fino a massimo di 10 kg. costruito tra i 72 e i 74 per produrre con circa 25 persone esclusivi civili, lo stabilimento del Musnovas ha intrapreso una progressiva ma costante trasformazione a partire dal 2000 fino ad arrivare al 2011 a essere uno stabilimento dedicato esclusivamente alle produzioni per la difesa con l'arrivo di Rwm Italia. Oggi lo stabilimento si sviluppa su un'area di circa 80 ettari in una produzione in un'area di proprietà di circa 200, a garanzia della sicurezza rispetto ai paesi limitati. L'80% dei reparti e degli impianti di produzione ha un'età media di 10 anni e quelli più anziani sono stati completamente rinnovati recentemente. Questo fa di Domus Novas un unicum, uno stabilimento moderno, caratteristica molto rara quando si parla di realtà industriali, particolarmente nella manufattura di prodotti esplodenti. Inoltre lo stabilimento Domus Novas è anche il più grande stabilimento privato in Italia del settore con la capacità di stoccaggio di 655 tonnellate di materiali esplodenti. Presso Domus Novas operano una linea di produzione dedicata alla fabbricazione di corpi bomba che avete visto e un impianto per il caricamento per fusione con esplosivi tradizionali quali il TNT, il Composition B e anche insensibili come gli MX, idonei per i grandi calibri per l'esercito, bombe, testa di guerra, per missili e siluri. Inoltre una serie di pressi utilizzate per comprimere varie tipologie di esplosivo in cariche di rinforzo di varia taglia e dimensioni permette di produrre piccolissime cariche inferiore al grammo fino a quelle da oltre 500 grammi. Una linea di produzione di esplosivo insensibile di PBX-SQR che avete visto nel video si vale di un mixer da circa 800 chili per miscelata ed è oggi la produzione principale dello stabilimento per bombe d'aereo, testa in guerra, per missili e siluri e cariche di vario tipo. Dopo quattro anni di lavori e circa 45 milioni di euro di investimento, tutto supportato dall'azienda, una nuova linea di caricamento di alcune esplosivo insensibili di tipo CastCured, però questa volta basata su un miscelatore ben più grande da 2 tonnellate e 7, quindi c'è oltre tre volte quello attuale, rende lo stabilimento Musnovas quello con la produttività maggiore e la flessibilità maggiore in tutta Europa. Si è investito molto anche in nuovi processi, per citarne uno, abbiamo acquisito negli ultimi anni dalla US Army la tecnologia per la manipolazione di un esplosivo di nuova generazione di loro invenzione, adatto soprattutto per le cariche dell'esercito, che ha costato all'azienda oltre 2 milioni di euro. Non abbiamo solo impianti all'avanguardia, l'azienda investe regolarmente e costantemente anche per creare l'eccellenza delle proprie competenze. Un training center interno è dedicato a creare e mantenere quelle competenze preziose e molto specialistiche in un settore tecnologico così particolare che vede pochissimi attori a livello mondiale. Oltre alle bombe d'aereo, l'azienda progetta e fabbrica anche altri sistemi di rilevanza strategica per la difesa. Fin dai primi anni Ottanta l'azienda è stata attiva nella progettazione e produzione di sistemi per la marina militare destinati alla difesa subacquea, quali mine ad influenza, sistemi di contraminamento, subacqueo e prodotti per le forze speciali. Sono sistemi molto complessi di elevato valore strategico e tattico che richiedono un costante lavoro di ricerca e sviluppo. Per contro sono produzioni di poche unità, solitamente molto customizzate al fine di soddisfare le esigenze operative dell'utilizzatore finale. Progettazione e produzione di questi sistemi è completamente in house anche per via del livello di classifica di sicurezza data le componenti chiave. Il settore delle bombe d'aereo, ben noto, vede l'RVM quale produttore di un'ampia gamma di corpi bomba, quali quelli classici general purpose della serie Mk80, dalle piccole Mk81 da 250 libere a quelle più grandi da 2.000 libere le Mk84 e bombe di implementazione, quali la 209. Meritono in questo contesto anche particolare attenzione, capricolare menzione, due prodotti particolari. Uno è la corpobomba Payway 4 prodotto su licenza Raytheon, che è l'armamento scelto dalle forze aeronautica inglese, la Royal Air Force, e un nuovo corpobomba di compressazioni innovative, della taglio 500 libere, sviluppato per le forze aeronautiche francesi e recentemente scelto anche dall'aeronautica tedesca. I corpi bomba, come avete visto, sono interamente prodotti da noi e internamente nei nostri stabilimenti. Tuttavia produrre e vendere corpi bomba non è sicuramente cosa banale. Prima di poter essere utilizzate, le bombe devono essere integrate con il velivolo dalla design authority e autorizzate all'utilizzo dalla forza armata. I programmi di integrazione sono complessi nella durata di anni e costano decine di milioni di euro. Grazie a uno sforzo notevole e durato anni, le bombe italiane prodotte dall'AeroM Italia sono oggi integrate ed autorizzate all'utilizzo su tutte le piattaforme di origine europea, dal Tornado, all'Eurofighter, al Gripen, al Rafale e al Mirage, e anche di molte piattaforme statunitensi, dall'F-15, all'F-16, all'F-18 e anche all'F-35. In proposito, siamo particolarmente orgogliosi del risultato raggiunto nel 2020, quando tutte le tipologie di corpi bomba prodotte dall'AeroM Italia e in uso presso l'Aeronautica Militaria Italiana sono state integrate con l'F-35 Joint Strike Fighter. Questo lavoro ha visto noi e l'Aeronautica collaborare a stretto contatto con le autorità americane e ha permesso di reimpiegare la maggior parte dello stock esistente nell'inventare della Forza Armata senza costi per la Forza Armata, perché sono stati tutti sopportati dall'AeroM Italia e quindi salvando decine di milioni di euro. Le capacità ingegneristiche e produttive, di cui vi ho dato una breve descrizione anche nel video e poco fa, sono regolarmente messe a servizio delle ditte capocommessa maggiori del settore, sia nazionali che estere. In particolare siamo un parten storico di Leonardo per cui produciamo regolarmente teste di siluro e cariche esplosive, quali quelle per le munizioni guidate vulcano. Attualmente siamo anche parte del team italiano che sta sviluppando, insieme a Leonardo MBDA, il nuovo missile Teseo 2 per la marina italiana. L'azienda non continua solo a investire nel proprio segmento di business, ma anche in corso da anni un processo di diversificazione delle proprie produzioni all'interno delle proprie competenze, sostenuto in questo dal gruppo. Ad esempio, per citare due dei progetti principali, stiamo investendo insieme al gruppo nello sviluppo di una nuova tipologia di munizione e di caricamento esplosivo che potrebbe essere la munizione di scelta per il nuovo carro armato europeo, l'MGCS. Recentemente abbiamo intrapreso una relazione e una collaborazione con altre società per entrare in un settore per noi nuovo e siamo alla fase finale della trattativa con la società israeliana YouVision per creare un sistema di coproduzione e cosviluppo in Italia per tutto il mercato italiano ed europeo delle loiter e munition. Questo prodotto di nuova generazione è oggi uno dei più richiesti dalle forze armate di tutti i paesi per il loro valore tattico e strategico. Questo nuovo progetto siamo sicuri che collocherà l'RVM Italia in un nuovo settore di eccellenza a sostegno anche delle capacità tecnologiche del paese. Se ora guardiamo al mercato internazionale il business di RVM Italia vede essenzialmente l'export come l'elemento principale del proprio fatturato, come del resto la maggior parte delle aziende della difesa. Nel 2020 il fatturato verso il Ministero della Difesa italiano è stato inferiore al milione di euro, solo lo 0,7% del totale. Il totale degli ordini diretti e indiretti anche tramite società commessa come per esempio Leonardo con l'amministrazione della difesa oggi ammonta a circa 3 milioni che rappresenta l'1% del totale del portofoglio ordini in casa. Se si escludono i 325 milioni associati ai contratti le cui licenze sono state revocate. Se guardiamo il settore delle mine marine possiamo a buona ragione dire che RVM Italia è azienda leader del mercato. Se si escludono Stati Uniti, Cina e Russia, le società del mondo attive nel settore si contano sulle diete di una mano. Sono una ventina i paesi che hanno i nostri sistemi in utilizzo, in uso e l'interesse per questi prodotti in alcune aree del mondo dove la minaccia è più sentita sta aumentando. Tuttavia viene tenendo presente che per rimanere al vertice di questo settore sono comunque necessari progetti finanziati di ricerca e sviluppo, analogamente a quanto accade regolarmente per missili e siluri. Essi sono possibili solo se sostenuti dalla nostra marina italiana oppure da marine estere. Il mercato del bombe d'aereo invece è molto differente. I nostri clienti ricorrenti sono quegli end user dove la qualità e la sicurezza del prodotto prevale rispetto al prezzo. I nostri utilizzatori normali sono la Francia, il Regno Unito, la Germania, la Polonia, la Svezia, l'Australia, la Thailandia, il Brasile. Spaziamo dall'Europa al resto del mondo, oltre che ovviamente i paesi arabi. Ci scontriamo regolarmente in questo mondo agguerrito, contro ditte statunitensi, brasiliane, spagnole, francesi, israeliane. Va detto che in tale contesto la revoca delle licenze di gennaio 2021 verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi ha pesantemente danneggiato la credibilità dell'azienda, soprattutto in questi mercati, che sono quelli più interessanti medio orientali. Tipicamente, dalle società produttici di velivoli da combattimento, quali British BAE Systems, Saab, Lockheed Martin, Dassault, il cliente quando compra nuovi velivoli acquisisce anche un primo pacchetto di corpi bomba, a garanzia delle future forniture. E questo primo passo genera nel tempo una regolare continuità di forniture. In Italia purtroppo si tende spesso a separare l'arma dalla munizione, per favorire apparentemente l'esportazione di chi produce piattaforme, che vengono presentate come oggetti neutri, così da ridurre il rischio che il dibattito politico impedisca la conclusione delle trattative. Ritengo che questo sia un errore. È evidente che nessuno compra un'arma senza sapere se e da chi domani potrà comprarne la munizione. L'Italia in questo contesto è uno dei pochi paesi al mondo che possiede la capacità nazionale di produrre sia sistemi d'arma, velivoli, navi e anche munizioni. Una stretta e sinergica collaborazione tra queste componenti non può che favorire la diffusione dei prodotti italiani nel mondo, in particolare delle nostre primarie ditte nazionali, quali Leonardo e Fincantieri. Desidero fare alcune considerazioni generali. È evidente che il costo per mantenere l'avanguardia gli impianti e continuare a sviluppare le tecnologie di cui disponiamo sono notevoli. Inoltre se il mantenimento e la crescita delle competenze è una sfida per ogni azienda che opera nel settore della difesa, questo è ancora più vero per noi che operiamo in un settore tecnologico della difesa ancora più particolare e che vede pochissimi attori a livello mondiale. Per operare e crescere è essenziale per noi come per chiunque altro avere una prospettiva certa, per quanto possibile, che si concretizzi in progetti di sviluppo e contratti di forniture pluriannali. Questa continuità nel settore della difesa, diversamente da altri settori, può essere assicurata esclusivamente dallo Stato, tramite commesse nazionali o il consenso e il sostegno all'esportazione. Terzio non datur. La sospensione nel 2019, esattamente due anni fa da oggi, il 29 luglio, e le successive revoche a gennaio del 2021 delle licenze di esportazione per bombe d'aereo verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi, di cui ben sapete, hanno interrotto l'esecuzione di contratti pluriannali. Proprio lo Stato, dunque, ha fatto venire meno quella continuità di cui parlavo prima, come elemento necessario per tutte le aziende del settore della difesa. C'è che è voluto ridurre il problema al rischio di impresa, quasi che i contratti acquisiti fossero il frutto di scelte azzardate, quando invece l'RVM Italia, se ovviamente mossa in un perimetro vincolato, così come definito e autorizzato dallo Stato, e a un certo punto, dopo quasi cinque anni di evoluzione del contratto, ha visto cambiare la posizione dello Stato e questo ha colpito l'RVM e solo l'RVM, i suoi lavoratori, il territorio del Sulces e dell'Iglesiente, dove si trova lo stabilimento di Domus Novas. Grazie a una riorganizzazione interna e a contratti di intermediazione intergruppo, siamo riusciti a tutire il colpo. Tuttavia, le soluzioni trovate sono a tempo. Siamo ancora ben lontani dall'aver ritrovato quella continuità di medio e lungo periodo necessarie. Come avete sentito, abbiamo accelerato il processo di diversificazione nell'ambito delle nostre competenze, abbiamo moltiplicato gli sforzi commerciali, ma vi assicuro che la perdita di credibilità sul mercato internazionale causata dalla revoca delle licenze ci indebolisce molto. In tale contesto ritengo che lo Stato possa, anzi debba, fare di più. Mi auguro di essere riuscito a darvi una visione sufficientemente esaustiva di chi sia oggi RVM Italia e di quanto questo contribuisca in modo fondamentale a rendere l'Italia tecnologicamente e produttivamente indipendente da altri paesi. Al di là della proprietà, siamo un'azienda radicata in Italia, fatta da italiani, che continua a mantenere a livelli di eccellenza, tecnologie e competenze, guardando sempre avanti. Per concludere, sono profondamente convinto che è, come c'è stato anche riconosciuto in altre occasioni, che la RVM Italia sia un'azienda strategica, un pilastro per la difesa nazionale e quindi un elemento chiave anche nelle relazioni geopolitiche legate alle tecnologie per la difesa. Per questo penso che sia compito nostro, come azienda e vostro, di decisori politici, quello di tutelare e valorizzare realtà uniche come la nostra, evitando, e questo aspetto esclusivamente a voi, che il dibattito pubblico in tema di industrie e difesa, certo legittimo, si faccia miope, arrivando decisioni rovinose per aziende come la nostra, i suoi lavoratori, il territorio e in definitiva l'intero sistema paese. Desidero ringraziare il Presidente Rizzo e tutti voi della Commissione per questa opportunità e resto a disposizione per le vostre domande. Bene, grazie, grazie a lei Ingegnere per la sua relazione certamente esaustiva, diciamo ricca di spunti per i nostri commissari e per i lavori della nostra Commissione. Ha chiesto di intervenire l'Onorevole Perego di Cremnago, a cui do la parola. Grazie, grazie Presidente, ringrazio il Dottor Sgarzianze anche per l'onestà e il coraggio delle sue parole. Lo fa da capitano di industria di un'azienda che guida con successo, come ha detto lui, da dieci anni. Credo che le sue parole debbano essere colte da noi commissari con grande attenzione e sensibilità. Sottoscritto, così come altri esponenti del mio partito, abbiamo più volte sottolineato che cosa abbia rappresentato in termini di danno reputazionale per le nostre industrie e per il sistema paese la revoca delle licenze all'esportazione verso gli Emirati e l'Arabia. Io lo dico anche da persona che ha visitato, come ho detto in altre sedi, la base di Al-Minad negli Emirati da cui poi siamo stati allontanati, per usare un termine polite, il 2 luglio. La domanda che volevo porle è questa, proprio in riferimento alla questione che lei ha sollevato. Se l'eliminazione del certificate rafforzato da parte dell'Uama il giorno 30 giugno sia stato un elemento utile a migliorare i rapporti verso gli Emirati e l'Arabia, cioè se in base a questa decisione presa all'ultimo minuto se vogliamo dall'Uama ci siano stati dei miglioramenti nei rapporti fra voi e gli Emirati e l'Arabia in termini quindi di possibilità di riprendere le relazioni commerciali e riattivare le commesse sulle quali la vostra azienda aveva investito, perché ricordiamoci sempre che un buon imprenditore sa che i piani di progettazione e pianificazione sono piani quinquennali se non anche decennali e quindi l'aver interrotto le relazioni commerciali e evitato l'export pacifico che sia stato un grave danno nei confronti dell'azienda e mi lasci dire, lo dico senza mezzi termini anche frutto di una scelta molto molto miope che non ha interessato tra l'altro chi questa scelta doveva aderire ovvero la commissione difesa e i suoi commissari è stata quindi una decisione presa soltanto dalla risoluzione della commissione degli affari esteri particolare della Camera. La seconda questione lei ha parlato in dettaglio dello stabilimento di Domus Novas, io volevo chiedere quali sono le prospettive future, i piani di lavoro di questo stabilimento e se dopo questi due anni di difficoltà c'è stata una ripresa dei lavori e concludo con la terza domanda, lei ha citato un settore strategico per il comparto difesa che è quello delle bombe d'aereo di cui si parla effettivamente anche poco e io volevo capire quali siano i piani europei in particolare degli altri paesi, delle altre aziende rispetto a questo settore specifico che vede in Rwm un'azienda leader internazionale e chiudo dicendo, credo che sia necessario da parte di tutti noi, noi sicuramente ne abbiamo la piena consapevolezza come Forza Italia, sostenere l'industria della difesa in un quadro ipercompetitivo dove le altre nazioni lavorano e supportano la difesa in un'ottica di sistema paese e questo dovremmo farlo anche noi e faccio i complimenti per la gestione di successo dell'azienda in questo decennio di suo mandato, la ringrazio Grazie a lei collega, ha chiesto di intervenire l'onorevole Russo, prego Grazie signor Presidente e ringrazio anche per l'ottima analisi chiedo per mia colpa, a causa dei lavori che si sono protratti, di poter magari vedere dopo anche il video se c'è la possibilità e volevo anche porre una domanda più tecnica Lo sviluppo delle loitering munitions sta avendo un'importanza fondamentale in quelli che sono tutti i conflitti e su tutte quelle che sono le dimensioni tattiche e strategiche nei campi di battaglia. Abbiamo visto come la presenza di questi sistemi d'arma nel recentissimo conflitto del Nocorno-Karabakh e anche un pochino nello scenario libico abbiano determinato rovesciamenti di fronte e diciamo la superiorità sul campo. Volevo chiederle, vista anche l'esperienza che ha la sua azienda, qual è la posizione dell'Italia all'interno, dal punto di vista tecnologico dal punto di vista produttivo, all'interno del panorama dei paesi che producono questi tipi di sistemi d'arma, sia a livello qualitativo sia a livello quantitativo. Grazie Grazie a lei onorevole Russo, ho chiesto di intervenire l'onorevole Deida. Prego collega Grazie Presidente, grazie Ingegnere. Ho avuto la fortuna di visitare l'azienda qualche anno fa e devo dire che ero rimasto colpito per prima di tutto il livello di sicurezza che garantisce, sembra scontato però devo dire l'armonia dei dipendenti, l'attaccamento dei dipendenti al posto di lavoro che anche questo non è scontato insomma e soprattutto anche una certa simpatia perché poi essendo in Sardegna ma poi è stata presa di mira, più volte l'ho detto in commissione, come se loro fossero gli autori e quelli che andavano a fomentare conflitti in giro per il mondo, come quando invece poi erano, loro semplicemente seguivano la legge come tante aziende che seguono la legge non possono essere aditate come a volte nella stampa capitava, quasi come se fossero loro i colpevoli della guerra in Yemen, tant'è che si è visto che dopo che c'è stato l'embargo la guerra non è che è finita o i problemi in Yemen sono finiti. Ma io mi ricordo, poi arrivo alle domande che sono un paio molto schematiche, su questo avevamo presentato delle interrogazioni perché non mi sorprende, secondo me uno Stato può prendere tutte le decisioni che vuole, se poi impedisce un'azienda di commerciare o altro, come avevamo chiesto un'interrogazione, deve risarcirla di quel blocco che non è dipendente dall'azienda o comunque contrattare con lei eventuali contropartite, quindi noi avevamo chiesto al governo, questo era il primo governo Conte, se bloccate un mercato e compensate con un mercato interno o con altri mercati. Quindi la prima domanda è se poi c'è stato questo tipo di contrattazione con il Ministero dello Sviluppo Economico. L'RVM ha chiesto dal 2018 nulla osta di azienda di sicurezza, di azienda strategica e anche questo era fermo, è stato fermo per molti anni alla Presidenza del Consiglio, ma come abbiamo visto nel video, ma anche come parlare dell'ingegnere, dal volume di affari anche perché poi al di là del commercio con i paesi arabi si è visto che loro commerciano con i paesi Nato, con l'Europa, quindi anche in questo senso c'è stata una risposta da parte del governo, cioè avete ottenuto o no, perché ci avevano detto che anche qui la risposta del governo ci avevano detto, questo ha anche il governo Conte II che era in via di definizione questa pratica. E concludo con un'ultima domanda chiedendo, come lo posso formulare, quali sono da una parte le aspettative dell'azienda verso la politica, cioè la politica o lo Stato comunque italiano, come può agevolare o dico rispettare il vostro lavoro? Quali sarebbero le aspettative vostre nei confronti della politica? Grazie, l'onorevole De Hidda, ha chiesto di intervenire l'onorevole Duva. Sì, grazie Presidente, ringrazio la Presidente della Repubblica Italia. Devo dire che non voglio stare qui a commentare ovviamente scelte che sono state fatte dal Parlamento, dove io ovviamente come tutti i colleghi di questa Commissione siedo. È chiaro che la sovranità parlamentare va rispettata e quindi credo che qualunque scelta venga fatta, sia una scelta fatta agli interessi di tutti i cittadini e delle sensibilità che in quel momento, nel momento della votazione sono ritenute quelle più forti e quindi si dà una risposta a tutto il Paese. Ma chiaramente questo si tratta di suonità parlamentare, quindi non mi dilungo oltre. Più che altro, quello che vorrei chiedere ai rappresentanti del BOM Italia è come l'Italia dovrebbe sfruttare la partecipazione al Comitato Tecnico Consultivo legato all'utilizzo del Fondo Europeo della Difesa, questo al fine di favorire in qualche modo l'industria italiana del settore. Ecco, grazie. Bene, grazie Onorevole Duva. Io non ho altre richieste di intervento, pertanto do la parola al nostro ospite per la replica. Prego, Ingegnere. Grazie Presidente. Comincio con rispondere alle domande dell'Onorevole Perego. L'induzio rafforzato, l'eliminazione della clausola, dell'induzio rafforzato da parte dell'Uama di fatto non ha cambiato la situazione, nel senso che forse per certi versi nei confronti di questi Paesi ha forse creato ulteriore confusione. Mi spiego meglio. Di fatto l'induzio rafforzato non era un impedimento all'esportazione, praticamente richiedeva esclusivamente un impegno da parte di questi Paesi che il materiale d'armamento che sarebbe stato comunque autorizzato lo fosse a patto che non venisse utilizzato nel conflitto in Yemen. Quindi diciamo che l'unico cambiamento che ha portato è stato quello che ora, quello che si poteva esportare anche prima, può essere esportato anche ora e può essere utilizzato in Yemen. Il tutto tranne le bombe d'aereo e i missili. Questa situazione per esperienza diretta sia con gli Emiratini che anche con l'Arabia Saudita ha generato confusione perché le aspettative di entrambi i Paesi, in particolare l'Arabia Saudita, sono che questo sia un primo passo che possa portare rapidamente a una normalizzazione della situazione. Questa è una situazione che potrebbe essere gestita. Oggi nessuno dei due Paesi si capacita del perché può essere esportato tutto tranne un l'embargo su un prodotto e verso questi due Paesi. Quando le condizioni al contorno della situazione che l'ha generato dal loro punto di vista, io non entro nei commenti, è diversa. Quindi i rapporti, non so quanto personalmente questo passo sarà normalizzante. Posso poi rispondere a dare una visione della situazione delle bombe d'aereo, della produzione delle bombe d'aereo e come viene visto questo settore dagli altri Paesi. Possiamo distinguere tre situazioni perché tutti i Paesi che possiedono un'aeronautica militare, che possiedono venivoli da combattimento, necessitano di questo prodotto e quindi è considerato ovviamente un prodotto alla cui produzione nazionale, una produzione comunque garantita, sia di carattere strategico. Ci sono situazioni, come per esempio il Regno Unito, dove la produzione locale di bombe d'aereo non avviene e il Regno Unito di fatto si appoggia all'aereo governo Italia per la produzione dei protocorpi bomba. Questo crea una dipendenza di fatto tra i Paesi, ma anche in un ambito di rapporto di fiducia presuppone una continuità. Altri Paesi invece per ragioni anche di sicurezza nazionale, ma anche per protezione dell'industria locale, portano la produzione o la coproduzione presso il proprio Paese. Gli Emirati Arabi che abbiamo citato prima sono un Paese di questo tipo. Gli Emirati Arabi producono localmente i corpi di bomba d'aereo grazie alla tecnologia fornita dal nostro Paese dieci anni fa, con un sistema di coproduzione di componenti, i famosi componenti che sono stati bloccati dal 2019. Questa situazione di collaborazione di fatto fino a oggi ha permesso negli ultimi dieci anni una costante collaborazione tra i Paesi e la garanzia di questo tipo di fornitura. Oggi vista la situazione ovviamente questo impedisce di continuare in questo modo e quindi gli Emiratini, gioco forza, si renderanno totalmente indipendenti, avvalendosi di altri fornitori, oppure costruendo all'interno le capacità tecnologiche oggi mancanti. Nel panorama, tornando all'Europa, altri Paesi, la maggior parte dei Paesi si evvale di un sistema concorso dell'Inghilterra, quindi scelgono un fornitore qualificato e di conseguenza continuano praticamente regolarmente quando, secondo necessità, ad acquisire il materiale necessario. Accezione in questo panorama è la Francia. La Francia con cui noi collaboriamo e siamo un fornitore importante, dall'altra parte adotta una strategia leggermente diversa rispetto ad altri Paesi, perché non solamente nel nostro settore ma anche in altri, per cui ha visto nell'interdipendenza, ne parlavo anche nel mio discorso, tra velivolo e armamento, un legame strategico. Quindi in Francia, nonostante per un certo tipo di prodotto siamo oggi noi fornitori importanti, la Francia che anni fa aveva perso le capacità di produzione interna di corpi bomba, oggi se le è ricostruite e quindi oggi la Francia è in grado di riprodursi autonomamente corpi bomba, ma questa è una volontà nota, così che possa rendere indipendente la vendita dei propri velivoli rispetto alle logiche di altri Paesi. Da qui, quello che vi ho già detto, la strategicità è importante di legare e di valorizzare questo legame del munizionamento con la piattaforma. DomusNovas. Oggi a DomusNovas siamo, diciamo che ci lavorano un certo numero di persone, siamo riusciti a uscire con gli strumenti che abbiamo praticamente scelto, dalla crisi che c'è stata a cavallo del 2019 e del 2020 e quindi abbiamo ritrovato una certa stabilità. Di sicuro i numeri del personale non sono quelli che erano al 2019. Nel 2019 solo sui strumenti di DomusNovas erano circa 330 persone che lavoravano. Sono scese a un minimo di 140 nel 2020 e oggi si attestano a circa 200. Ci sarà un'oscillazione per via delle commesse in corso di qualche decina di unità nei prossimi mesi, però, confermo quello che ho detto prima, oggi non abbiamo una visibilità più lunga di 5-6 mesi rispetto a quello che è la realtà dei fatti. Tenete conto che secondo i programmi iniziali pre-2019, a oggi solo DomusNovas avrebbero dovuto lavorare 650 persone. Questa è la realtà dei fatti di DomusNovas. Donorevole Deida mi ha chiesto prima se ci sono stati fatti, sono seguiti fatti alle ipotesi o alle richieste di trovare delle compensazioni nazionali per cercare di mitigare la battuta d'arresto all'improvviso che è capitata. La risposta è no. Nel senso che sono state fatte interlocuzioni con il Mise, al suo tempo sono state fatte interlocuzioni con il Ministero della Difesa, ma purtroppo a oggi non esistono sul piatto alcun programma di una certa rilevanza che possa essere di compensazione. Prova ne è il fatto che oggi meno dell'1% degli ordini in casa, sempre esclusi i contratti, che tra parentesi sono ancora in vigore, perché non tante le revoche, i clienti si aspettano che prima o poi possano ripartire. Quindi questa situazione non so quanto potrà essere puntellata, però è la realtà. E quindi oggi cerchiamo di attaccarci alle possibilità dell'estero. Nulla è seguito neanche a richiesta di Nosis, come null'ossa strategico per l'azienda, però a onor del vero c'è una discussione in corso, una valutazione in corso da parte di Segre Difesa e del Ministero, che potrebbe far rientrare le capacità tecnologiche e certi prodotti dell'azienda in una revisione del decreto ministeriale che identifica le aree strategiche per la difesa. Sinceramente lo auspico da italiano, anche perché è secondo me semplicemente la forma corretta per identificare quello che noi facciamo, che è comunque di strategico a tutto. Cosa mi aspetto dalla politica? La politica deve essere giustamente l'espressione della pluralità del pensiero del Paese e quello che mi aspetto è semplicemente una cosa, che il valore, che si tenga conto del valore intrinseco di certe tecnologie, di certi impianti, che comunque deve essere in questo settore della difesa tenuto presente a prescindere rispetto a quelle che sono le legittime decisioni in fatto di politica estera. Quello che io ho vissuto, io, l'azienda, ha vissuto negli ultimi anni, vista dal mio punto di vista, è stata una sovrapposizione di visioni che in maniera tutto sommato in debita ha causato anche una, quasi uno stracismo dell'azienda anche per programmi nazionali o semplicemente per impostare delle pianificazioni per il futuro. Semplicemente perché l'RVM associata alla questione delle licenze associata a tutto quello che era l'impatto mediatico. Ecco, un aspetto che la politica sia superiore a questo e possa distinguere e debba distinguere tra quello che è bene per il Paese indipendentemente dalle chiacchiere attorno. L'Outer Immunition è un bel prodotto, decisamente bel prodotto dal punto di vista tecnologico. L'Italia, ma anche l'Europa è indietro su questo settore, molto indietro. E l'Outer Immunition di fatto come concetto e come tecnologia nascono di fatto in Israele. Le ditte in Israele che hanno negli anni sviluppato diverse versioni di questi oggetti sono più di una. Noi, con il gruppo abbiamo scelto quella che ci sembra la società più interessante con cui collaborare e con cui riteniamo e speriamo di poter fare grandi cose. La ragione della nostra collaborazione con una società israeliana è proprio per tagliare all'osso i tempi di introduzione a livello nazionale ed europeo e anche di poter sviluppare, quindi portare tecnologia per poter sviluppare nuove varianti e quindi coprire quel gap tecnologico che in realtà esiste. Oggi di fatto è un settore che abbiamo coltivato dal punto di vista di analisi prima di arrivare a questo punto tutti tutti non c'è paese in Europa perché questa è l'area su cui ci stiamo concentrando che non cerchi una munizione di questo tipo e questo ci fa dire che per evitare che tra virgolette l'Europa diventi terreno di conquista di società o di fuori dall'Europa il modo migliore è quello di collaborare in tempi il più rapidi possibili tagliando costi di sviluppo e permettendo poi di creare delle varianti dedicate per il mercato europeo e col fatto che esisterà un'azienda in Europa e in Italia per poterlo fare da dove ci saranno varianti speciali per il paese o per i vari paesi europei dalla Germania come dall'Inghilterra o la Francia sarà possibile tenerle confinate in quello che sarà il mondo europeo spero di avere risposto esaurientemente all'onorevole Duva sinceramente non so molto cosa rispondere lo dico sinceramente nel senso che noi come per il settore in cui siamo non possiamo determinare una strategia specifica per il nostro prodotto in maniera univoca che possa essere portata al tavolo europeo noi siamo comunque un produttore di un componente di un sistema noi facciamo la munizione ma l'intero sistema poi che è l'oggetto trainante a quei tavoli sicuramente quello che possiamo dire è che penso di essere stato esauriente in questo abbiamo creato in dieci anni le basi per poter partire senza costi non ricorrenti avendo a disposizione in Italia tutte le possibili tecnologie che possono essere sicuramente utilizzate insieme ad altri paesi insieme a partecipando progetti internazionali per lo sviluppo di nuovi prodotti nel nostro campo tecnologico penso di avere risposto a tutti bene grazie grazie ingegneri io non ho altre richieste di intervento pertanto rinnovo i ringraziamenti per la sua disponibilità per l'apporto appunto che ha dato ai lavori della nostra commissione ringrazio tutti a tutti gli intervenuti onorevole Russo ah il video chiederemmo poi magari di trasmettere il video ai colleghi che non hanno potuto vederlo e pertanto rinnovo il ringraziamento a tutti gli intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione grazie